Indagini lampo, quelle della squadra mobile guidata da Marzia Giustolisi, che ha fatto luce sul furto commesso nella notte di lunedì scorso ai danni di un'ottica di viale testa secca nel centro storico della città, individuando i presunti autori, due 41 anni entrambi pluri pregiudicati, che sono stati al momento denunciati stato di libertà poiché ritenuti responsabili di ricettazione in concorso. I ladri, infatti, lo scorso 5 maggio, dopo aver sfondato con una pesante mazza la vetrina dell'ottica, incuranti di agire in una via centralissima e trafficata, avevano portato con sé 13 paia di occhiali costosi e griffati, oltre due orologi. Le tempestive intagini hanno consentito di rintracciare i due pluri pregiudicati che si stavano adoperando per ricettare la merce rubata. Uno dei due uomini, infatti, è stato sorpreso mentre stava sfoggiando un vistoso paio di fiammanti e costosi occhiali, che apparivano chiaramente in contrasto con le sue precarie condizioni economiche e il suo trasandato abbigliamento. L'uomo interrogato sulla provenienza di quell'accessorio non riusciva a dare una spiegazione plausibile, pertanto veniva portato negli uffici della mobile per i relativi accertamenti. Stessa sorte per il suo complice, intento a sfoggiare un altro sfizioso paio di occhiali e un accattivante orologio. La vittima del furto, convocata alla mobile per il riconoscimento degli occhiali e dell'orologio, confermava che si trattava di parte della merce che gli era stata rubata. Una volta che i sospetti della polizia sono stati confermati, si procedeva con le perquisizioni domiciliari a seguito delle quali, in casa di uno dei due denunciati, venivano rinvenuti altre tre paia di occhiali, ancora più costose, nascoste in un giubbotto appeso in un armadio. Occhiali anche in questo caso riconosciuti dal proprietario dell'ottica che a seguito del furto ha subito un danno di circa 2.500 euro tra merce rubata e vetrina sfondata. La merce rinvenuta è stata dunque sequestrata, sarà l'autorità giudiziaria dopo gli accertamenti di rito che valuterà la restituzione al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire se gli odierni indagati per ricettazione abbiano preso parte al furto o siano stati gli stessi autori.